Ciao a tutti, io sono Stine Stanzi, benvenuti in questo nuovo video dove andrò a provare per la prima volta il sushi. Vediamo la camera. Il tavolo è questo qua, con queste bacchette. Bacchette, tovagliolo. Sicuro? Quanto vi devo? Un piatto con delle scritte sopra. E un altro piattino qua, molto interessante. Buonasera, lo vediamo dopo quando paghiamo il pezzo. E questa sotto tovaglia, insomma. Prezzo base, vi dicono che qui ci sta. Ci sta bene. Abbiamo Lorenzo Grecchi e Marco Rotuno, signori. Anche ci sta servendo della soia e dell'acqua. Assaggiamo l'acqua perché bisogna assaggiare tutto il locale per avere, per capire se è una buona esperienza, no? E' la fresca, buona. Sono arrivate queste cose qua, molto interessanti, devo dire. Ci stanno servendo con l'iPad. Ma mettiti la soia. Eh, perché non so se ti piace. Ma i metti tu? No, fino a che ti piace. Metti, metti tu. Eh, faili assaggiare anche il boccio. Vabbè, ma se non ti piace, va lasciati. La piccante, no? No, 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 no. Ok. Pucciaci un assaggio normale, poi ci stai fizzandolo. Assaggiamo. Rossi, 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 non fa mica fare. Potevano venire stasera? E poi lo puoi fuggire dentro? Rossi, non fa mica fare. Beh. Prova a fuggiarlo. Aspetta, aspetta. Ok. Aspetta, sgoccialo. Buona, buona, buona tanto Team Zuppa. Basta, basta, vado. Com'è? Ti stà? Onesto? Sto stoppo? Allora, assaggiamo. Rossi, 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 non fa mica fare. Potevano venire stasera? E poi lo puoi fuggire dentro? Rossi, non fa mica fare. Com'è? Prova a fuggiarlo. Aspetta, aspetta. Ok. Aspetta, aspetta, sgoccialo. Buona, buona, buona tanto Team Zuppa. Basta, basta, vado. Com'è? Ah, è buono. Ti stà? Onesto? Ah, è buono. Ti stappo? I nigiri, non li ordiniamo più. Non li ordiniamo più. Stagia un po' scontra. Abbiamo ordinato un sacco da mangiare. Ma in qualche minuto abbiamo riordinato il giorno. Arriva... Ah, mi fa bene il suo telefono e i video romontano. Se fosse per noi, eravamo al tavolo io, Luca, Francesca, soldato. E il gira del loro papo, io mi sono messo a ridere perché... Panno orientale, chi lo ordina? C'era anche quando eravamo. No, no, no. Magari, chi è? Chi ha le palle, non li ha le panno orientale? Però... Papo mi sta facendo il video, Steven, no? Sì, ma papà bisogna essere. Bisogna essere pagati qui. Secondo me non c'è. Fino a Steven, prima volta su ci sei riuscito a usare le bacchette. Io che ci vado da una vita non l'ho mai imparato a usare. Idem, concordo. Dai, Steven, però che voglio mangiare, eh. Com'è? Buono? Questi spedini qua, molto buoni, devo dire. Cioè, devo assaggiare. Guardate, ragazzi. Capisino è secondo voi. Ma, focus. Ho pezzo. È un mio amico. Non lo so sappia, c'è stato un carmone. Vediamo un po' qua. Di tonno? Bel focus. Mmm. Qua? Mi fanno pizzi. E due, figata. Come si dice? Qua c'è un pizzo. No, cioè, non so se vuoi. Si, ma bisogna bere qua. No, è. Io uso macchini con le cazzo. Non diricati. Il cazzo rinchi, là. No, no, no. No, 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 no. Allora, poi prendi. Non male. Non faccio un po' lì. L'ho guardato ieri da picchia. Molto buono. Mi piace. Poi con questi cosetti qua. Lui ha sbagliato un po' l'ordine e ci ha ordinato del pollo. Che ansia, ragazzi. Ma perché m'ho parato per lì? Ma ma raga, poi questo caldo qua non fa l'ordine. Perché quanto che gatto? L'hai beccato. Quando rompete il cazzo. Aspetta il ghiaccio. È un fruetto. Eric vi ha lanciato il ghiaccio. È vero che non è arrivato a noi. Ti scherzai. Ciao Barbie. Che va? Non posso. È stranissimo vederti. C'è un posto qui, eh. È un modo per rompere il ghiaccio. Io sono il diavolo. Creo invidia. È un modo per rompere il ghiaccio. Questo qua da soli, che cazzo sanno? Eh no, l'ho visto. Ah, quella di me. No, ma voi vi state fatti niente. La fai vedere. Questa qua non sta fuori di tutto il resto. Quella che l'accompagnava Milano. Cioè, l'accompagnava Milano e poi la faccia. Se questo qua ti piacciono se ne prendi lì, eh. Tranquillo, c'è tanto che noi li conosciamo. C'era? Ho legato la tua ragazza? Barbie! Ce n'è? Questa è l'associazione. Io ho regalato anche questo. Molto bene, lo sai. Qui abbiamo Clara. Ciao. Ciao. Paloschi. Bello, io l'ho fatto tutto. Ciao. Prendi qua. Oh, bello. Oh, bello. Buoni amici. Oh, bello che ti ha ripreso tutto il video. Il regista. Il regista. Ok. Sti, non fanno incazzare. Con nocciole e stracciazione. Ma poi li metti tutti insieme, bello? No, bello. Chi stai sbappando? Ti prego, editalo tutto, eh. No, no, no. Sarà così il video, eh. Da leccarsi i baffi. 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 Da leccarsi l'uccello. Eh? Ti ho visto, eh? Da baffi. Budba. Ehi. È là. È. È. Grazie a tutti.